Ciao a tutti, allora mi vedete con lo stesso outfit di ieri diciamo però appunto con i boccoli, truccata perché abbiamo registrato dei video, io e Meli chiaramente e uno è già uscito quindi adesso che l'1.30 adesso penso che tutti bene o male se non è uscito da scuola o così vi metto il link qui sotto così potete andarlo a guardare e nulla, tra l'altro abbiamo registrato anche altri video che poi usciranno uno mi piace da morire non vedo l'ora che appunto lo possiate vedere tra l'altro è un trend tipo spagnolo, non è insomma italiano o americano non mi ricordo però voglio che arrivi in Italia perché è troppo bello allora buongiorno amici, anche da parte mia sono qui con Charlie, non si nota comunque sono qui con Charlie che sto facendo fare appunto una mini passeggiata prima di entrare dal veterinario perché abbiamo notato che c'è una cosa in mezzo alle gengive non ci convince quindi per appunto assicurarci che stia bene siamo venute qui e nulla, dopo vi faremo sapere speriamo in bene speriamo